Bello se siamo già in onda. Eccoci qui, dovremmo essere in onda, perfetto. Buon pomeriggio a tutti, ben pomeriggio Eraldo, ritorno subito da te. Bentrovati al sesto appuntamento di Maestri Fuoriclasse edizione web. Siamo giunti in dirittura d'arrivo, questo è il penultimo incontro con uno dei maestri fuoriclasse. Avremo un ultimo incontro venerdì prossimo e poi il 24 ci sarà la premiazione del contest fotografico. In queste sei settimane abbiamo avuto il piacere ma anche la fortuna di poter incontrare Maestri Fuoriclasse, delle menti molto diverse che ci hanno offerto delle chiavi di lettura per poter entrare proprio in contatto attraverso queste chiavi di lettura con il mondo che abbiamo dentro e il mondo che abbiamo fuori. Siamo convinti sempre di più che il lavorare su di noi sia un dono prezioso, un tempo che ci possiamo regalare. Ecco perché Maestri Fuoriclasse, che è il festival dell'apprendimento e della formazione continua, cerca di portare questa missione fuori dalle aule, fuori dai contesti consueti. E infatti ha scelto come location un borgo bellissimo che è Fiume Freddo Bruzio in provincia di Cosenza. Il luogo, non so se lo conoscete o se avete avuto modo di cercarlo anche su internet, è un bellissimo borgo con un castello sulla cima che ha davanti un panorama mozzafiato, il mare, la distesa marina. E questo castello che non ha più tutte le pareti, non ha più tutti i battenti alle porte, non ha più le finestre, è un castello a cielo aperto. E questo è un po' il simbolo di come la conoscenza, il sapere, la curiosità, le idee devono essere trascinate, portate nel vento, un po' come il polline, no? Per poter fiorire magari vicino o anche molto lontano da noi. E anche il nostro maestro fuori classe di oggi, Eraldo Affinati, è un maestro, è un insegnante, uno scrittore, un giornalista. E anche lui ha scelto di uscire fuori dalla classe, come è anche nel suo titolo dell'ultimo libro, fuori dalla pazza classe, abita proprio spazi altri per poter educare. E io ti dico, Eraldo, che ho letto il tuo ultimo libro, ho finito di leggerlo proprio stamattina all'alba, mi ha coinvolto tantissimo, io ti ringrazio, mi verrebbe da condividere con te e con gli altri questo pensiero, ti ringrazio per aver dato fiducia all'essere umano. Questa è la cosa che mi ha colpito molto di te. Tu hai dato fiducia a Penny e hai costruito una scuola in suo onore per lui, però voglio lasciare a te proprio la parola per raccontarci chi è Penny e cos'è questa scuola, questo progetto speciale che va fuori dal seminato. Quindi a te la parola, Eraldo, grazie. Grazie, grazie Emanuela, di questa bella introduzione che hai fatto. Effettivamente, allora partiamo da questa scuola. La nostra scuola si chiama Penny Whirton ed è una scuola di insegnamento dell'italiano ai ragazzi immigrati. Una scuola gratuita, ci tengo a dirlo, diffusa oggi in 50 luoghi in Italia. Sono tutte associazioni che si ispirano al nostro stile educativo ed è una scuola che abbiamo fondato io e mia moglie ormai 12-13 anni fa. Ho raccontato la storia di questa scuola appunto nell'ultimo libro che tu prima citavi, Via dalla pazza classe, Educare per vivere. Il nome della scuola prende origine da Penny Whirton e sua madre, che è il titolo di un libro per ragazzi di Silvio Darzo, un grande scrittore italiano sul quale sia io che mia moglie Anna Lucellenzi ci siamo laureati. Abbiamo fatto la tesi di laurea proprio su Silvio Darzo. Ci siamo conosciuti io e lei proprio grazie a Darzo. Ecco la ragione per cui abbiamo intitolato a lui, a Penny Whirton, la nostra scuola. Questo perché nel romanzo Penny Whirton era un bambino che non conobbe mai il padre, un bambino diciamo difficile, con una storia particolare. Allora noi abbiamo creduto di vedere la fisionomia di Penny anche nei nostri studenti egiziani, albanesi, magrebini. Abbiamo quindi pensato di chiamare la nostra scuola Penny Whirton appunto. Sia io che mia moglie siamo tutti insegnanti. Abbiamo insegnato, insegniamo italiano e storia. Naturalmente soprattutto io a un certo punto sono entrato alla città dei ragazzi, una comunità educativa che ospitava e ospita ancora oggi minorenni non accompagnati che vengono da tutto il mondo e non hanno l'appoggio familiare. Sono presenti in Italia senza punti di riferimento, dai 14 ai 18 anni. Entrando in quelle classi nella città dei ragazzi mi sono appassionato, diciamo, all'insegnamento dell'italiano a questi ragazzi. Tant'è vero che alcuni miei libri prendono spunto proprio da quella mia esperienza. In particolare due, uno proprio la città dei ragazzi che racconta un viaggio in Marocco che io feci insieme a due miei studenti e un altro vita di vita che racconta invece un viaggio in Africa, sempre sulla scia di un mio studente africano che mi ha voluto, mi volle far conoscere sua madre che lui rivide dopo tanti anni di assenza, diciamo, obbligata. Già da questo capite fino a che punto per me la scuola era ed è ancora oggi un'avventura, come dire, personale. Nel mio libro racconto anche le mie storie personali di ragazzo, di adolescente inquieto, non sempre facile come io sono stato, anche perché ho avuto due genitori con storie difficili, sia mia madre fuggita da un treno durante la Seconda Guerra Mondiale e di lei ho raccontato la storia in un mio viaggio ad Auschwitz in un libro intitolato Campo del Sangue, sia mio padre che era un bambino non riconosciuto dal suo, un figlio illegittimo, quindi c'è in me anche questo elemento autobiografico che mi spinge ad insegnare ai ragazzi orfani di oggi anche un po' per risarcire ai miei genitori di quello che loro non ebbero la fortuna di avere. Lo dico perché ogni educatore ha dentro di sé una motivazione speciale che lo spinge, diciamo, a fare questa azione educativa appunto. La Penny Whirton è quindi l'esito un po' della nostra vita, quella di mia, di mia moglie, e la ragione per cui l'abbiamo creato è anche aver visto tanti volontari pronti a dare molto del loro tempo nell'insegnamento gratuito dell'italiano agli immigrati. E naturalmente sin dall'inizio abbiamo pensato di scrivere un testo di apprendimento che infatti si intitola Italiani anche noi, pubblicato da Ericsson, due volumi di esercizi, di letture, proprio per insegnare l'italiano ai ragazzi immigrati. Insegnarlo a loro è diverso rispetto ad insegnare l'italiano ad un bambino italofono. Mi capita spesso di dire, se tu dici farfalla, per esempio, a un bambino italiano, lui magari non la sa scrivere ma sa cos'è la farfalla, mentre invece al suo coetaneo immigrato gli devi far vedere il disegno, quindi l'approccio è diverso rispetto all'italiano. Questo è esaltante, bello. Certamente negli anni abbiamo conosciuto tante persone, tante persone che vengono da noi e ognuno di loro ha una storia terribile, a volte alle spalle, ci sono donne egiziane che vengono con bambini, anche nigeriane che vengono con bambini, ci sono ragazzi albanesi, ci sono africani che raggiungono la Libia dopo viaggi inarrabili e poi fanno il famoso percorso del mar Mediterraneo. Ci sono storie di ogni tipo e anche gli studenti sono diversi gli uni dagli altri, perché c'è quello già scolarizzato e c'è l'analfabeta nella lingua madre, che non ha mai conosciuto, non ha mai tenuto una penna in mano. L'approccio è molto diverso, ci sono richiedenti asilo politico, insomma le figure sono tante, ma anche i volontari sono tanti e diverse anche le loro motivazioni. C'è chi fa questa cosa, questa azione di volontariato per motivi religiosi, chi lo fa per motivi politici, chi lo fa per motivi esistenziali, ognuno ha una motivazione diversa, ma la cosa bella è che tutti si ritrovano poi uniti, a fare la stessa azione didattica. Durante la pandemia ci siamo fermati a febbraio, abbiamo dovuto sospendere le lezioni in presenza, però abbiamo continuato a farle online, con WhatsApp, con Skype, con piattaforme digitali e questo ha creato anche qua una comunità, perché immaginate cosa significhi per un ragazzo costretto a vivere in un centro di pronta accoglienza, chiuso, doppiamente chiuso, diciamo, non potendo frequentare nessuno, avere invece ricevere una telefonata da parte di una volontaria che appunto gli offre una lezione. Questo significa, diciamo, molto. Quindi nel tempo, negli anni, ci siamo estesi un po' in tutta Italia, abbiamo anche delle sedi in Ticino, per esempio, e quindi, come dire, questo ormai ci sta coinvolgendo tanto, perché naturalmente questo significa mischiare i mondi, mischiare le culture, il maestro fuori classe è questo, nel nostro caso, è proprio quello che va a cercarsi l'allievo, e la cosa per me più bella, più esaltante da educatore è vedere i nostri studenti italiani che insegnano la nostra lingua ai loro coetani immigrati. Sono i liceali, sono le studentesse dei licei italiani, degli istituti tecnici italiani, che noi formiamo come piccoli docenti, e dopo un periodo di formazione loro cominciano a interlopire con i loro coetani immigrati, vedere un'adolescente italiana che insegna il verbo essere e il verbo avere ad un suo coetaneo bengalese appena arrivato in Italia, insomma, è molto bello, perché fa capire che il tema dell'integrazione, insomma, l'integrazione la puoi realizzare soltanto mettendo a contatto questi due adolescenti. Ecco, io tengo molto a questo aspetto, quindi al coinvolgimento di tanti adolescenti italiani, in questo realizzando un po' anche l'assunto di Don Milani, a cui sono molto legato, ho scritto due libri su Don Milani, L'uomo del futuro e Il sogno di un'altra scuola, per raccontarlo ai più piccoli, lui in fondo, il priore di Barbiana, diceva proprio questo, dice cercate di motivare i ragazzi più grandi che possano diventare i maestri dei ragazzi più piccoli, e noi proprio questo facciamo alla Penny Whirton, in un rapporto che è sempre personale, uno a uno, senza la classe appunto, quindi non il professore che spiega, mette il voto, ha di fronte a sé 20-30 persone, ma una persona che parla a tu per tu con l'altra persona. Il meccanismo anche valutativo è molto diverso, perché non c'è il voto, ma c'è, come dire, un'esperienza, ecco, un'esperienza conoscitiva che tu fai insieme a lui. Beh, io credo che questa intuizione che tu hai avuto e che poi appunto stai sperimentando dell'uno a uno sia veramente una chiave di svolta, non solo ovviamente per la classe, la Penny Whirton, ma io ipotizzo che una cosa del genere possa essere traslata ovviamente non uno a uno, ma il senso che c'è e che ti vorrei chiedere qual è il senso profondo dell'educare nell'essere uno a uno, due persone che si trovano di fronte a condividere un presente. Certamente questo cambia molto il rapporto, perché non è più il professore che si mette lì in posizione di giudice, come se dovesse appunto giudicare, ma è una persona insieme ad un'altra persona. Allora questa motivazione è una motivazione diversa da quella di un semplice docente, ci deve essere una curiosità umana e poi anche mostrare qualcosa di se stesso, perché questi ragazzi, queste persone che arrivano, insomma in qualche modo tu devi conquistare la loro fiducia, lo puoi fare soltanto se ti mostri, se scopri gli ingranaggi, ecco come dico io, che non devi tenere nascosto niente anche di te stesso. Allora questa autenticità, ecco questo è molto importante, mostrarsi nella nostra autenticità e questo ovviamente fa in modo che anche loro possano fare altrettanto. Allora ecco il vengalese che ti fa vedere sul cellulare la fotografia della sua famiglia rimasta a Dhaka, ecco il ragazzo del Sudan che ti racconta come ha attraversato il deserto, insomma tante storie che si intrecciano e che in qualche modo costituiscono, dico io, anche il nostro futuro, perché nessuno di noi può credere di avere in esclusiva i propri valori, ma li devi mettere a contatto con gli altri, li devi spendere, li devi provare anche, le tue certezze, i tuoi valori, il tuo carattere, la tua sensibilità. Se te la tieni soltanto per te non puoi sentirti sicuro e quindi ecco la ragione per cui questa osmosi di sensibilità, di caratteri, di personalità fa sì che la Penny Whirton non sia soltanto una scuola ma sia anche una comunità, ecco una comunità che si sta formando nel tempo e che noi vogliamo anche diffondere, appunto come dicevi tu, anche al di fuori della dimensione didattica, come un nuovo modo di stare insieme. Un nuovo modo di stare insieme e anche un nuovo modo di fare scuola. Io sto riflettendo molto, come molti di noi, perché l'argomento scuola, l'argomento educazione, ovviamente dopo questo periodo di fermo e l'esperienza che la scuola si è trovata davanti ad esperire è stata molto forte e io credo che sia stata in qualche... C'è stato un attimo, siamo andati un attimo via, siamo ritornati. Adesso ti rivedo, sì. Ok, dicevo che quest'ultimo periodo sicuramente è come se fosse stata una spinta per la scuola, per dire ci sono stati secoli e secoli in cui a livello teorico e in qualche modo a livello anche diciamo di sperimentazione ci sono state delle novità. Io se vado a leggere anche pedagoghi del Cinquecento ritroviamo un po' delle affermazioni, si mettono in dubbio, le stesse cose che in fondo si mettono in dubbio oggi. C'è sempre questo portare l'attenzione comunque al tirar fuori dalla persona, al rapporto umano, però vediamo che nonostante questo la scuola è come se rimanesse incastrata in dei meccanismi. Forse ci sono dei secoli fatti di teoria e secoli di attuazione. Io ti chiedo, secondo te, siamo arrivati al momento in cui possiamo attuare una nuova scuola? Possiamo essere i granelli che vanno a finire nei meccanismi e scombinano tutto? Siamo pronti secondo te? E come? Certamente dovremmo provare a realizzare questi auspici che sono, come tu giustamente dicevi, auspici secolari, perché è da sempre vero questo che tu hai detto. Pensiamo a Maria Montessori, in fondo lei quando diceva che la centralità del bambino va affermata stava in fondo dicendo una cosa molto simile a quella che prima dicevo io, insomma, che noi vediamo. Naturalmente portare questo a livello istituzionale è molto difficile, questo è evidente, perché a livello istituzionale significa portarlo su grandi numeri, per esempio. Perché un conto è fare una scuola creativa, originale, autentica, in uno spazio in fondo delimitato. Un altro conto è invece coinvolgere una nazione a fare tutto questo. Però io penso che soprattutto in Italia ci siano tante esperienze originali. Ci sono tante professoresse, tanti professori che fanno nel loro piccolo spazio quello che stiamo adesso noi dicendo. Certamente devono combattere, devono combattere contro la burocrazia, devono combattere contro tutto quel sistema che a volte imprigiona e talora mortifica anche le iniziative appassionate dei più meritevoli. Quindi si tratta di creare appunto un tessuto connettivo che coinvolga famiglia, famiglia per esempio, tutte le agenzie educative. Per esempio nella pandemia, paradossalmente, nella estremità, diciamo, nella gravità della situazione, questo è parzialmente accaduto. Molte famiglie hanno partecipato, il ragazzo non andava a scuola, ma era la scuola che andava dal ragazzo. E questo rovesciamento è stato per tanti versi positivo. Così come anche la valorizzazione della tecnologia, questo anche potremmo metterlo a regime. Certamente ci sono stati poi aspetti negativi, come la sperequazione digitale, il fatto che molti ragazzi non hanno potuto frequentare in modo ottimale perché non avevano reti wifi e anche gli ambienti domestici adeguati. Però ecco, questo si è capito. Diciamo che a me è piaciuto molto l'autenticità del rapporto che si è creato fra molte professoresse e molti professori che hanno mostrato, diciamo, la loro anche fragilità. Fragilità. Perché tutti eravamo fragili, siamo fragili in questo momento. Anche noi adesso che stiamo facendo questo collegamento che avremmo dovuto fare appunto in Calabria, ne avremmo dovuto fare un incontro. Invece, però ecco, questa reazione che noi stiamo avendo, no? In fondo ci può insegnare molto, ecco. Moltissimo. Ci può insegnare le dimensioni climiche, per esempio, no? Tanti di noi adesso hanno apprezzato tante cose, stanno apprezzando anche la qualità del rapporto umano che si crea. Se noi non dimenticheremo, dico io, quello che adesso ci sta mancando, quando speriamo torneremo in autunno in presenza, forse allora anche la pandemia ci avrà insegnato qualcosa. Perché per tornare alla scuola, la scuola è verità, deve essere verità. Cioè la scuola, secondo me, non dovrebbe essere uno spazio specialistico, separato dall'esistenza, ma dovrebbe essere qualcosa che intensifica la vita, lo dico sempre io. Allora, se fosse così, i ragazzi quando vanno a scuola dovrebbero realizzare il massimo, non dovrebbero sottrarre niente, mentre invece purtroppo succede che il pomeriggio molti ragazzi mostrano delle risorse che invece la mattina a scuola tengono nascoste. Questo perché dovremmo dare noi ai nostri adolescenti grandi esperienze, ecco, grandi avventure, anche umane, diciamo, metterli alla prova. Allora io vedevo, per esempio, alla Penny Whirton, quando arrivavano questi ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro, notavo sempre con grande sbalordimento da parte mia, vedere che i migliori di questi ragazzi erano quelli che non sempre andavano bene a scuola. Quindi anzi, magari quelli che andavano male, in qualche modo si realizzavano meglio. Ne ho scritto nell'ultimo mio libro alcuni di questi episodi che mi avevano più colpito. Io andavo dalle professoresse e dicevo, ma questo ragazzo che io vedo così intraprendente e volitivo, ma come va in classe? Dici, eh, quello non va tanto bene, forse sarà bocciato. Allora ecco la ragione per cui capivo che una scuola dovrebbe invece valorizzare tutto. Per fare questo naturalmente significa rinnovare i programmi, sistemare gli spazi. Gli spazi sono importanti. Se tu, diciamo, continui sempre con la lezione frontale, con il professore che da solo spiega, anche il sistema logico, diciamo, è diverso, no? Sì, ma anche proprio di percezione. Una percezione, sì, una percezione diversa, per cui organizzare uno spazio più laboratoriale, per esempio, significa studiare spazi diversi, anche didattici. Quindi è questa la ragione per cui la scommessa per realizzare un'altra scuola, insomma, è una cosa ampia che chiama in causa i governanti. Noi dovremmo investire tantissimo sulla scuola, dovremmo mettere al primo posto, al primo posto, perché è lì che c'è tutto, lì c'è il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, ci siamo tutti noi, perché l'educazione non è soltanto spiegare un contenuto, ma significa anche vivere, insegnare a vivere in un certo modo. Quindi ecco la ragione per cui... Certo, la nostra identità alla fine si fa grazie a quello che apprendiamo. E in più una riflessione che facevo leggendoti, è che effettivamente sembra una cosa molto banale, però noi se parliamo di educazione, ci viene in automatico pensare a degli spazi molto ristretti, anche temporalmente. Si pensa al bambino, l'educatore del bambino, o l'educatore di situazioni particolari, come l'educatore di comunità. Si pensa che l'educazione, alla fine alcune volte si confonde con l'istruzione, sia relegata solo all'ambito scolastico. Difatti l'educazione, ma anche la pedagogia stessa, la scienza dell'educazione, accompagna l'uomo dalla nascita fino alla morte, e per qualcuno anche forse oltre. Quindi anche proprio a livello di cultura, di far capire che, lo si dicono sempre, gli esami non finiscono mai, non si finisce mai di apprendere, però mettersi davvero in gioco, e sentire che dobbiamo continuare a prenderci cura di noi, ad educarci, è lì il primo passaggio. Io penso molto anche a voi insegnanti, io devo essere sincera che ho vissuto la scuola, tutti noi abbiamo i ricordi della scuola, chi ce l'ha positivi, chi ce l'ha negativi. Io devo essere sincera, per me era proprio una gabbia la scuola, e sono stata arrabbiata fino a poco tempo fa con i professori. Per informazioni, come tu dicevi, quello che si apprende in aula, poi non te lo stacchi proprio più. Io non riuscivo a capire perché alcune regole, alcune per esempio, non potevo tenere le maniche corte, dovevo legare i capelli, io donna dovevo comportarmi in un certo modo, io vengo dal sud, quindi questo era ancora più amplificato. Però vivevo il conflitto, dico io sono uno studente, io devo imparare da te, quindi quello che mi dice è evidentemente giusto, perché allora io sento questo contrasto dentro? E quindi questo mi ha procurato tanta rabbia. Poi ovviamente con la maturità capisci che davanti hai altre persone, hai esseri umani che in fondo anche loro non hanno avuto modelli, anche loro si sono trovati soli, c'è una profonda solitudine in cui tutti stiamo. E quindi io penso che l'educazione debba partire anche da un cambiamento iniziando a prendersi cura anche di chi si prende cura. Io ho fatto una domanda poco tempo fa ad un insegnante, dice noi stiamo facendo i corsi per prepararci alla ripartenza. Era nel particolar modo una plenaria, ovviamente perché a distanza, con una psicologa, però è emerso che nessuno in questo periodo avesse chiesto loro come stai, come stai. E per me questo apre mondi, universi inammissibili, ma anche lì il terreno dove veramente ecco il senso di comunità, ecco il senso di condivisione, trovarci insieme, perché veramente alla fine siamo molto uguali. Sì, sì, no, questo che dici in effetti mi ci ritrovo molto perché spesso quando mi dicono, dice ma qual è il metodo, insomma il vostro metodo, mi viene in mente sempre la frase di Don Milani quando lui diceva questa è una domanda sbagliata perché il problema non è il metodo, ma è il come fare scuola, non cosa fare a scuola, come essere a scuola, come tu devi essere a scuola. Ecco, questa è la domanda giusta. Allora bisogna essere autentici, bisogna essere veri, anche mostrando le proprie vulnerabilità, i propri errori, e allora i ragazzi saranno sempre disponibili nei tuoi confronti se tu farai questo. E la qualità del rapporto umano è la cosa più importante, perché non si può fare scuola se non c'è intanto una fiducia reciproca. Ecco, quindi questo è il primo obiettivo da realizzare. Questa è la ragione per cui non si può parlare di tecnica. Ecco, prima della tecnica c'è la persona, ci sono gli occhi, i nostri occhi, i nostri sguardi, il nostro modo di essere, il nostro carattere, ognuno ha la sua sensibilità, ognuno ha il suo modo di porsi. Allora è sempre l'incontro fra docente e studente è sempre un evento sorprendente, che è difficilmente, diciamo, schematizzabile. Allora, se partiamo da questa base, ci rendiamo conto che fare scuola significa anche, come dire, calarsi nelle proprie, anche nei propri grovigli interiori, perché ognuno di noi ha le sue problematiche, vanno risolte, per cui quando entri poi in classe, devi sapere che tutto quello che il lavoro che hai fatto dentro te stesso è molto importante, perché se tu sei squilibrato, faccio per dire, se hai un problema, la persona che hai di fronte immediatamente te lo restituisce, te lo potrà restituire. Quindi c'è tutto un lavoro da fare anche dentro noi stessi, voglio dire. Poi c'è anche un altro discorso legato alla rivoluzione digitale, chiamiamola così, che apparentemente sembra, come dire, darci tante informazioni e ce le dà, però non ci dà la conoscenza. Allora la scuola ti dovrebbe anche insegnare all'approfondimento, alla fatica, al discernimento, all'applicazione quotidiana. Quindi questo elemento anche, diciamo, etico, per dire, è molto importante, oggi più che mai, altrimenti il rischio è quello di credere che cliccando su Google tu possa imparare tutto, mentre invece non è così. Devi prima fare un'esperienza, devi studiare e questo è la responsabilità della scuola, che oggi è ancora più alta rispetto al passato. Certo. Mi viene in mente, riguardo comunque al mettersi in gioco e anche alla fatica di dover affrontare. Tu hai usato una frase che per me, cioè a me ha colpito molto. Educare mi fa pensare, cioè l'educatore come una terra di mezzo e mi viene la metafora dei porti. Aspetta, sto perdendo la comunicazione. Aspetta, ecco, dove sei arrivato. Ripeti il concetto, perché si è saltato un po'. È saltato, oggi è ballerina, la linea è ballerina. Sì, sì. Dicevo che mi ha colpito molto la frase riguardo al fatto che educare è ferirsi. Sì, ah ok, sì, ho capito. Sì, e questa cosa, diciamo che un po' l'educatore è anche una terra di mezzo. Mi ha fatto venire in mente ovviamente la metafora dell'apertura dei porti, no? È come se fosse un luogo da abitare, un luogo l'insegnante, l'educatore abbatte, apre le barriere, apre i confini e fa entrare dentro di sé. E questo ovviamente crea scompiglio, crea ferita. Cioè ogni figlio che sia acquisito o naturale ti porta comunque a confrontarti con qualcosa anche di doloroso. Sì, Sì, questo è uno dei miei temi, diciamo, a cui io spesso ritorno. Cioè il fatto che un figlio, così come anche uno scolaro, ti conduce sempre in un luogo che tu non avevi previsto. Questo va dal piccolo a grande, nel senso tu fai una spiegazione e vorresti che magari la persona, lo studente ti ripetesse quello che tu hai detto. Mentre ti rendi conto che lui se lo fa, lo fa comunque in una forma nuova, in una forma che è sua, che tu in qualche modo devi accettare. Va da questa considerazione anche al fatto che lo scolaro vuole conquistare una sua autonomia, una sua libertà, una sua indipendenza. Allora tu come educatore da una parte in qualche modo devi accondiscendere a questa richiesta, dall'altra devi ostacolarla paradossalmente perché se tu non gli crei uno spazio dialettico, se tu non fai anche un po' il nemico, diciamo, se tu non diventi anche un ostacolo, praticamente l'adolescente che hai di fronte cresce nel vuoto, cresce praticamente senza punti di riferimento. Allora questa azione educativa l'adulto la può fare se è sicuro, altrimenti se non è sicuro comunica soltanto squilibrio, sbarrimento, indecisione, insicurezza. Allora ecco perché prima dicevo l'educatore deve fare un lavoro dentro se stesso e naturalmente deve sapere l'educatore che non può ottenere sempre il consenso. Ci vuole anche il dissenso e lo devi accettare e questo può offerirti. Ecco la ragione per cui dicevo usavo prima quella metafora che tu hai richiamato. Cioè nel senso questo vale anche per tutti i genitori e tu devi accettare un po' dentro di te la contestazione del più giovane perché questo fa parte del suo processo di crescita e quindi oggi purtroppo per fare questo però bisogna scegliere, bisogna fare delle scelte molti adulti e questo lo dico per esperienza anche personale nel momento in cui convocavo per esempio i genitori dei miei studenti mi rendevo conto che molti adulti non facevano le scelte necessarie positive per i loro figli restavano eternamente giovani non in senso anagrafico che è impossibile ma in senso spirituale come se fossero questi adulti ancora giovani e poter fare tutto quello che loro volevano allora questo è deleterio per un giovane perché il giovane invece ha bisogno di modelli formativi ha bisogno di punti di riferimento allora con i quali confrontarsi per poter magari anche contestare ecco che allora tutte le riflessioni che noi facciamo sulla scuola come vedi Emanuela riguardano poi alla fine tutta la società diciamo purtroppo oggi viviamo nella deflagrazione del desiderio dico io cioè che tu puoi credere di poter fare tutto puoi credere puoi credere ecco mentre invece non è così devi passare devi anche un po' bruciarti le mani ecco se tu diciamo alla fine dopo la tua esperienza sei passato anche attraverso il fallimento questo ti renderà ancora più credibile agli occhi di un giovane e questo è un po' tutto diciamo il percorso che va fatto che tutti gli insegnanti fanno perché questo lo fanno chiunque gioco forza è chiamato a farlo ecco perché il nostro è un mestiere difficile ecco perché il nostro è un mestiere che consuma perché lo fai una volta lo fai due volte lo fai tre volte inevitabilmente devi ritrovare sempre la stessa motivazione dentro di te e per farlo devi avere dei valori da seguire ecco quante cose vedi c'è non è soltanto l'insegnante che spiega e mette il voto qui entrono in azione tanti elementi che in qualche modo io ho cercato di raccontare nel libro proprio per mostrare cosa significa veramente l'insegnamento ecco perché ho messo il sottotitolo educare per vivere no? perché non si può educare se tu non hai una chiarezza esistenziale dentro di te hai toccato una parola che secondo me mette con le spalle al muro molti di noi il fallimento e l'errore noi diciamo che stiamo stiamo crescendo stiamo vivendo in una in una società dove comunque dobbiamo correre dobbiamo stare sempre al passo e se abbandoniamo questa corsa rischiamo veramente di essere alienati di essere messi ai margini e il non essere perfetti il il fallire appunto l'errore viene visto come un'uccisione della della nostra della nostra anima e e questo molto è dovuto anche ovviamente alla alla valutazione no? perché in qualche modo alcune volte i professori diventano quasi dei ragionieri delle competenze no? con gli schemi con con questi voti che che creano veramente la fine sia di una dell'individuo che anche della collettività alla fine ci ritroviamo come diceva Daniel Pennac parlando proprio del voto a rincorrere un fantasma quando tu parli invece di di valutazione e di di errore tu gli dai un valore come giusto che sia molto importante all'errore e al quella che viene considerata la risposta sbagliata invece la risposta esatta questa è una cosa che mi ha mi ha interessato molto come questo è un concetto che ho espresso il valore della risposta sbagliata no? e la e la maschera di risposta esatta cioè cosa vuol dire? che una risposta sbagliata tu come insegnante non dovresti mai gettarla nel cestino perché magari ti può rivelare qualcosa dello dello studente che la risposta esatta invece ti nasconde perché magari lo studente che ha risposto bene intanto il giorno dopo già potrebbe essersi dimenticato di quella risposta che quindi potrebbe non avere inciso nella sua formazione poi quella risposta esatta potrebbe semplicemente essere stata il frutto come dire di un di un addestramento ecco a rispondere in modo esatto mettere invece la risposta sbagliata magari è il frutto di un equivoco di un fraintendimento da parte del ragazzo allora oggi purtroppo la valutazione viene spesso fatta attraverso quiz attraverso domande a risposta multipla no? rispondi A B e C la risposta a crocetta questo è il tema della standardizzazione della valutazione io sono molto critico nei confronti di questo tipo di valutazione anche se mi rendo conto che ci debba essere un controllo della valutazione però la vera valutazione dovrebbe essere come dicevo prima di ingranaggi scoperti cioè tu dovresti mostrare proprio il percorso che stai facendo al tuo studente e dire guarda stiamo insieme dobbiamo raggiungere questo obiettivo e questi sono i modi per farlo io sono una guida perché naturalmente io sono una guida in quanto sono un insegnante però io ti coinvolgo in questa azione quindi diciamo la facciamo insieme questa ma non è un'autovalutazione da parte del ragazzo ma è uno come dire un giocare a carte scoperte senza domande tra bocchetto ecco questo è importante senza truccare allora se tu fai questo se tu ti mostri diciamo nella tua se tu scopri le carte tutto sarà più positivo perché non ci sarà più quella paura del voto quella tensione e poi ci sarà anche un altro elemento che tu praticamente coinvolgerai anche chi va male non solo chi va bene questo è importante perché non soltanto i deboli hanno bisogno dei forti ma anche i forti hanno bisogno dei deboli e questo è un altro elemento tutti gli insegnanti sanno che le scuole più belle le scuole migliori sono quelle che si basano sulla promiscuità cioè dove praticamente ci sono tutti la eterogeneità quindi una classe di soli ripetenti sarebbe tristissima così come una classe di soli secchioni mentre invece dovremmo mettere insieme appunto chi va bene e chi va male e in questo senso così come poi nella vita in questo senso allora avremmo realizzato diciamo il valore dell'errore per così dire avremmo valorizzato paradossalmente il fallimento quindi questo è un po' il lavoro da fare ecco perché noi alla Penny Whirton siamo tutti diversi uno dall'altro ecco ognuno ha la sua metodologia però c'è questa umanità ecco c'è questo rapporto anche rigoroso diciamo con apprendimenti finalizzati uno sull'altro per cui c'è la ragazza di Kiev lavorata a Kiev che imparerà l'italiano in due mesi perché lei è bravissima e ci sarà Ibrahim che dopo un anno ancora magari sta lì col verbo essere e il verbo avere perché vengono da posizioni diverse uno dall'altro devi considerare come insegnante la posizione di partenza devi premiare il movimento che i ragazzi registrano non il traguardo che raggiungono ecco questi meccanismi sono meccanismi che noi verificiamo tutti i giorni appunto alla Penny Whirton ma che sono in fondo universali per realizzare quella scuola nuova di cui stiamo parlando certo guarda prima di vedere se ci sono domande insomma dai nostri ascoltatori abbiamo deciso di con la società Crea appunto di porre una domanda regina ai nostri maestri fuori classe tu usi molto nei tuoi scritti nel tuo ragionamento la domanda perché l'importanza della domanda diciamo la nostra vita si costruisce in base alle domande che noi ci facciamo e che facciamo alla vita io se penso anche alla mia esperienza teatrale io vengo da un teatro non di prosa tradizionale ma bensì di scrittura scenica performativa dove tutto partiva dalla domanda quindi scrivere in scena attraverso la domanda e ricordo che la cosa più difficile era proprio trovare quella domanda che spalancasse le porte e quindi io ti chiedo quale domanda suggeriresti a Penny per poter affrontare meglio la vita per poter vivere meglio come individuo ma anche come individuo in una collettività qual è la tua domanda che suggeriresti da porsi guarda mi viene in mente un episodio che ho raccontato in un altro mio libro elogio del ripetente e spesso lo richiamo quindi ne parlo anche adesso una volta in una classe dove io insegnavo in istituto professionale chiamammo un un operatore sanitario a raccontare cosa vuol dire una sostanza stupefacente ai nostri ai nostri ragazzi che magari alcuni di loro ne facevano anche uso insomma allora chiamiammo questo professionista il quale fece una sorta di brainstorming alla lavagna raccontando un po' il significato di metadone di cocaina tossicodipendenza dopo circa un'ora di lezione frontale diciamo fatta in questo modo lui disse allora ragazzi adesso fatemi fatemi voi le domande dopo questo che io ho detto e nessuno disse niente cioè la classe in classe calò in silenzio a un certo punto alzò la mano un ragazzo che aveva il sostegno un cerebro leso che a un certo punto disse nel silenzio generale ma tu rivolto a questo professionista tu mi vuoi bene ecco quella domanda che lui fece tutti restammo io anche adesso ogni volta che ne parlo mi vengono sempre i brividi tutti restammo così annichiliti fondo ecco lui aveva capito questo ragazzo istintivamente aveva capito che quel professionista stava recitando un ruolo aveva semplicemente recitato la sua parte la vera domanda è ma tu sei interessato a me mi vuoi bene sei veramente voglio dire motivato oppure lo stai facendo soltanto per recitare una parte insomma allora la vera domanda è questa secondo me riuscire ognuno di noi a capire ma io perché sto facendo questa cosa lo sto facendo fino a che devi scavare dentro la tua motivazione se tu scavi dentro la tua motivazione che sarà sempre diversa l'uno dall'altro avrai capito la forza della domanda perché la vera risposta è nell'intensità della domanda ecco questo io spesso dico se tu poni la domanda avrai già la risposta se tu invece non ti fai la domanda ogni risposta sarà banale ecco un po' quindi la vera scuola deve suscitare la domanda non deve dare le risposte risposte grazie allora adesso vediamo se abbiamo qualche domanda altrimenti te ne faccio altre io allora abbiamo una domanda di Eleonora l'approccio educativo nasce e si contestualizza con tutte le forme di linguaggio possibili in una società così piena di stimoli quale linguaggio va recuperato e quale va dimenticato se vi è un linguaggio da dimenticare sì Eleonora posso rispondere questo non c'è un linguaggio unico non c'è una tecnica non c'è una ricetta che ci possa come dire risolvere tutto bisogna assumere la responsabilità dello sguardo altrui questa è la cosa più importante cioè tu guardare negli occhi i nostri studenti e partire dal bisogno che quegli occhi esprimono per cui non c'è un programma da svolgere ma c'è una persona a cui rivolgerci ecco è lì che dobbiamo pensare dobbiamo pensare ma tu di che cosa hai bisogno ecco tu la persona che è di fronte di fronte a me di cosa ha bisogno devo partire dalla dai bisogni della persona che ho di fronte non devo partire da uno schema oggettivo allora se io mi pongo in questo modo poi le strumentazioni possono essere tante però devo far scattare un po' la scintilla negli occhi dei miei studenti ecco se gli occhi dei miei studenti sono spenti vuol dire io come maestro non sono ancora riuscito a come dire a realizzare quello che voglio Allora Eugenio educare significa trasferire valori di riferimento e modelli comportamentali coerenti o favorire un'autonoma capacità di elaborare i propri valori e modelli che potrebbero però essere anche diversi educare significa uniformare o rendere liberi Beh Eugenio devo dire ha fatto una domanda importante diciamo perché un po' prima parlando l'ho siorato a questa cosa quando dicevo che in fondo un insegnante deve incarnare anche un po' il limite che i ragazzi non dovrebbero superare faccio un esempio cioè allora in classe ci sono tante regole da rispettare non bisogna entrare in ritardo insomma ci sono tante allora queste regole l'insegnante prima ancora di indicarle prima ancora che indicare il rispetto delle regole deve lui incarnare questa regola allora se lui è credibile allora i ragazzi lo rispetteranno se invece lui è il primo a non come dire a non rispettare quelle regole che indica allora no allora ecco che ci vogliono un po' tutti e due gli elementi prima devi offrire un modello di riferimento poi ci vuole la libertà devi fare in modo che il ragazzo acquisisca la sua libertà però tu non lo puoi lasciare libero subito il ragazzo perché se non gli dai un modello di riferimento lui di quale libertà potrà fruire questo è il punto vero prima quando parlavo di adulti magari non credibili mi riferivo proprio a questo al fatto che oggi molto spesso i ragazzi si sentono liberi però prima di essere liberi dovrebbero capire cosa significa il peso di quella libertà quindi ecco che l'insegnante è chiamato a passare attraverso un cerchio di fuoco per così dire deve allo stesso tempo incarnare il limite però poi anche favorire come dire il superamento di quel limite quindi è un lavoro difficile che però tutti gli insegnanti e tutti i genitori in fondo fanno per formare i nostri ragazzi gli devi dare un'esperienza e un modello altrimenti li lasci nel vuoto e questo non si può fare beh sì effettivamente comunque noi viviamo un po' nel in qualche modo in una in una società in cui i padri è come se fossero morti non abbiamo più questo riferimento e questo si percepisce così come anche il dover entrare in scena tu parli della finzione diciamo nella scuola questo teatro che va avanti appunto dall'ottocento per cui c'è il ruolo dell'insegnante da una parte e dell'alunno dall'altra e in qualche modo questo questa maschera non va a svelare purtroppo ma crea proprio un'opacità sullo specchio tra me insegnante e allievo invece appunto questo dell'autenticità che ritorna del mostrarti autenticamente è la chiave la chiave veramente fondamentale nel rapporto si superare la finzione pedagogica la finzione pedagogica far finta di insegnare oppure far finta di ascoltare ecco invece devi rompere un po' devi falsaltare questo schema e devi mostrarti per ciò che sei ognuno lo può fare in modo diverso non c'è uno schema fisso perché ognuno ha il suo carattere per così dire però se i ragazzi percepiscono che stai facendo sul serio sicuramente ti verranno dietro sì allora vediamo c'è un'altra domanda allora l'insegnante si mette in gioco diventa modello come il genitore lo studente si mette in gioco quando riesce a vivere un'esperienza educativa se il gioco ha un valore nell'esperienza educativa perché la scuola continua ad essere così poco gioiosa e non rivaluta la funzione del gioco è davvero sì ecco infatti effettivamente la scuola in questo suo a questa sua dimensione istituzionale sembra quasi mortificare il gioco no? sembra quasi come dire voler nasconderlo mentre invece l'elemento appunto come dicevo prima la scuola deve essere l'intensificazione della vita significa volevo dire proprio questo cioè non dobbiamo creare spazi separati mentre invece il meccanismo stesso della campanella no? quando suona la campanella tutti si alzano e finisce e finisce la lezione no? ecco pensiamo a questo quello è uno schema artificioso artificiale se invece riuscissimo cioè io molte cose per esempio si imparano di più durante la ricreazione no? cioè durante la ricreazione magari o per esempio durante la gita scolastica puoi imparare dai tuoi studenti tanto che invece diciamo nell'elemento chiuso codificato tradizionale dell'insegnamento non ce la fai a farli venire fuori certi aspetti questo naturalmente è un lavoro da fare nel tempo non si può realizzare subito è difficile realizzare questo perché ripeto come dicevo all'inizio i grandi numeri a volte ce lo impediscono però è anche vero che l'insegnante è sempre uno a uno perché ha uno sguardo sempre individuale sulla persona e su questo diciamo possiamo lavorare molto beh tu fai l'esempio nel libro mi vengono in mente queste immagini perché tu riesci a creare appunto con le parole da scrittore immagini profonde il momento dell'appello sì cioè come atto non di numeri ma tu non chiami un numero stai chiamando un'identità quello è fortissimo come atto infatti uno dei miei libri si intitola tutti i nomi del mondo è un romanzo tutti i nomi del mondo significa questo che quando tu fai l'appello attraverso il nome evochi il destino della persona che hai di fronte lo evochi e quindi dire il nome di una persona significa evocare la vita di quella persona con tutta quella dimensione affettiva per esempio che comporta il nome e quindi diciamo questo devi essere consapevole di questo e quindi devi avere uno sguardo appunto individuale non onnicoprensivo quindi non c'è lo scolaro ma c'è quella persona in carne ed ossa con tutta la sua storia e poi ci sei tu anche come persona c'è anche il tuo nome la tua storia e quindi questo significa la qualità della relazione umana ecco quando dicevo prima puntiamo su quello per rinnovare la scuola intendevo esattamente questo naturalmente questo significa ripeto cose grosse significa come dire chiedere tanto all'insegnante non significa semplicemente formarlo come professionista ma significa farlo entrare entrare dentro il mondo degli altri ma è questa la ragione per cui è la scuola che può essere l'avanguardia di tutti i rapporti umani cioè nel senso che se tu fai bene la scuola puoi cambiare veramente la persona puoi cambiare il mondo quello che succede a scuola dico io quello che succede in classe possiede effetti indelebili ed è la potenza dell'insegnamento sì sono come un tatuaggio sulla nostra anima esatto veramente vediamo se ci sono altre domande sì Carlo chi sa cogliere nel rapporto con lo studente il valore di quell'individuo quello è un bravo docente oggi ci sono modelli educativi che cercano di esplorare questi percorsi sì sicuramente infatti io scherzando a volte facendo una battuta dico questo immaginiamo un professore severo vecchio stile tutto diverso da quello che adesso noi qui abbiamo immaginato se ebbene se anche lui facesse con autenticità diciamo la sua parte i ragazzi magari all'inizio lo contesterebbero si scontrerebbero con lui però poi in fondo in fondo lo apprezzerebbero perché quello quel professore avrebbe comunque offerto un modello educativo col quale loro si potrebbero confrontare ecco non sarebbe stato indifferente no? ecco l'indifferenza invece è il vero male che dovresti evitare ecco dovresti entrare sempre come dire davvero in quello che stai facendo e quindi in questo senso il modello educativo è fondamentale guai se non ce l'hai però purtroppo oggi abbiamo esperienze a volte effimere diciamo no? molto superficiali e allora ecco che i ragazzi sentono questo cioè praticamente i ragazzi quando arrivano in classe sono già in qualche modo stati vittime della società della nostra società che praticamente punta sul successo sulla superficialità sulla bellezza esterna e tu invece come insegnante ecco che dovresti invece ricondurli ai valori opposti del rigore della concentrazione dell'applicazione allora io spesso mi capita di dire che l'insegnante a volte è un po' come la controfigura che nel cinema viene chiamata a recitare un'azione pericolosa no? cioè nel cinema tu chiami la controfigura perché c'è un'azione dove ci si può far male no? ecco oggi oggi l'insegnante è uno che a volte si deve fare male al posto magari dei genitori che non hanno fatto quella parte pericolosa allora gli insegnanti vanno vanno a prendersi il dissenso che i genitori magari non hanno voluto sostenere come dicevamo prima no? ecco questo significa la controfigura tappare il buco che c'è stato questo ti fa capire che la scuola non è separata dal mondo ma sta dentro la vita e quindi in qualche modo tu porti dentro la scuola anche degli stereotipi che ci possono essere stati fuori penso al razzismo per esempio il mio prossimo libro sarà un libro sul razzismo è un dialogo che farò che uscirà a settembre un dialogo fatto con Marco Gatto il titolo del libro sarà i meccanismi dell'odio ecco io e lui abbiamo un po' ragionato su questo tante volte i nostri studenti in classe insomma portano degli stereotipi per esempio sugli immigrati no? professori ma questi ti rubano il lavoro questi sono violenti questi arrivano in Italia allora perché hanno sentito in famiglia no? queste cose allora ecco che tu in classe dovresti rimettere a posto la scena dovresti restituire diciamo dignità alla scena che hai vissuto per fare questo però dovresti avere l'appoggio delle agenzie educative molto spesso quello che tu dicevi prima la solitudine del docente anche ecco la solitudine del docente che deve in qualche modo fare da solo no? anzi tu quando sei di fronte al ragazzo sei sempre da solo simbolicamente diciamo no? questa è la bellezza anche secondo me straordinaria del lavoro dell'insegnante il suo fascino supremo cioè che tu in quel momento hai di fronte questo adolescente che in qualche modo rifà la storia del mondo è come se tu avessi uno scenario preistorico di fronte a te no? perché un quattordicenne un quindicenne ricostruisce le sagome distrutte tu non devi mai dare niente per scontato devi ricominciare da capo ecco il modello educativo di cui parlava prima eh Carlo credo sia stato quello che ha fatto questa domanda no? questo modello educativo è una cosa come dire vera profonda che tu devi realizzare non è una semplice non è un personaggio che puoi recitare ma è appunto sei te stesso che entri dentro no? e quindi ecco questo lo voglio dire per dire che cos'è la scuola è una cosa profonda seria che riguarda che chiama in causa tutta la nostra vita delle nostre famiglie del nostro futuro anche quello che noi vogliamo dove vogliamo andare noi perché noi formiamo la coscienza dei futuri cittadini no? e quindi attraverso la scuola tu in qualche modo capisci dove potremo andare e quindi la responsabilità del futuro ecco che tu hai non del presente ma del futuro ecco perché ho intitolato l'uomo del futuro il mio libro dedicato a Don Lorenzo Milani perché lui aveva capito questo che la scuola si prende in carico il futuro della nostra vita Rosario della prossima domanda dici fuori dalla classe pazza io dico che dentro la classe devono iniziare ad entrare degli insegnanti pazzi cioè ci deve essere un po' come dire questa presa di posizione è arrivato il momento di spiegare le vele e essere responsabili sentirsi responsabili non delegare c'è una politica del delegare ad altri del non mettere le mani nel fango invece quello che che forse c'è necessità è di insegnanti io dico matti pazzi perché devono avere anche un po' consapevolezza buona sì sì è andata via è andata via il collegamento però diciamo le scuole ecco no no però ho capito dato via il collegamento quando ogni tanto si ferma quando tu dici però ho capito quando tu dicevi appunto quel brivido di follia in fondo ecco che è necessario ma questo sicuramente perché come diceva Rosario prima ho visto l'altra domanda che mi diceva ecco la scuola di oggi non è un poco spettatore nel senso che i ragazzi non sono partecipativi come dovrebbero e vanno a scuola come un obbligo e non come un piacere per riuscire per riuscire a motivarli questi ragazzi a fare in modo che possano uscire da questa idea dell'obbligo devi sfidarli anche un po' ecco devi sfidarli e naturalmente per sfidarli devi come dire coinvolgerli devi essere una figura appunto anche affascinante per loro perché se se tu rimani sempre nel tuo spazio chiuso di puro esecutore diciamo concettuale dei concetti altrui se tu resti soltanto un distributore di traffico concettuale o di tecniche o di sistemi o di codici loro non ti potranno sempre seguire devi accendere un po' una luce però per fare questo devi fare esperienze belle con loro devi riuscire a condurli a fare esperienze anche interiori particolari questo è ovviamente un impegno che la scuola si deve assumere io diciamo quando vedo questi ragazzi immigrati che arrivano con esperienze incredibili sono io che imparo da loro perché veramente loro la capacità che hanno di rialzarsi in piedi dopo essere caduti caduti a terra mi fa capire la grande forza che c'è nell'essere umano ognuno diciamo è in grado di come dire di ricrescere laddove meno tu l'aspetti anche e quindi è questo che noi alla Penny Wirth siamo in qualche modo privilegiati nel vedere questa umanità dispersa che si riunisce di fronte a noi con questi bambini meravigliosi io penso sempre a Divine questo bambino nigeliano che mentre la mamma studiava i verbi diciamo davanti alla sua volontaria lui si metteva questo mappamondo di plastica in testa e anche simbolicamente come dire procedendo in mezzo a noi fra i banchi portava avanti il mondo se lo caricava sulle spalle ecco non bisogna mai dimenticare questo bisogna sempre avere la fiducia nell'adolescente non devi mai perdere la speranza anche nel momento in cui questi ragazzi sembrano persi ecco questa è un po' la missione che noi abbiamo infatti tu appunto mi hai letto nel pensiero perché mentre parlavi io stavo pensando alla missione stavo pensando alla vocazione alla chiamata perché il lavoro il mestiere chiamiamolo dell'educatore dell'insegnante non può essere un lavoro cioè è veramente una chiamata è veramente una missione ecco perché diciamo che prima di decidere di fare l'insegnante l'educatore credo che non bisogna non bisogna guardare semplicemente alla come dire tra virgolette alla sicurezza di un posto di lavoro e di un di un reddito di una retribuzione ma il fatto che tu veramente scegli e senti più che scegli senti dentro di te una chiamata il famoso daimon tu quando l'hai sentito questo daimon dentro di te questa chiamata se l'hai sentita io l'ho sentito la prima volta che sono entrato in classe non come studente perché come studente esattamente come te anch'io mi sentivo in gabbia e l'ho scritto nel mio libro hai visto quando davo le capocciane le testate amore perché veramente entravo in classe mi sentivo costretto sin da piccolo a questo a questo rito diciamo del professore che spiega mette il voto e noi tutti seduti lì mentre invece quando per la prima volta sono entrato come insegnante a fare una supplenza immediatamente ho sentito ho percepito come uno spazio magnetico che c'era tra la lavagna il banco io e loro sentivo che lì potevo funzionare potevo incidere potevo incidere nella vita delle persone che avevo di fronte e quindi da quel momento ho sempre insegnato peraltro in istituti professionali in classi di borgata in situazioni apparentemente disagiate degradate difficili che però per me sono state entusiasmanti ecco mi hanno sempre motivato in quel momento mi sono reso conto che potevo avrei potuto fare l'insegnante no? poi insegnante e scrittore per me sono quasi la stessa cosa perché la responsabilità della parola dico io parola scritta e parola orale è la stessa sia per l'insegnante che per lo scrittore quindi per me letteratura e scuola sono sempre si sono sempre alimentate l'una con l'altra poi adesso vedo un'altra cosa quando vedo molte studentesse del liceo che vengono a fare le esperienze della Penny Whirton in alcune di loro ti dico la verità vedo una grande attitudine pedagogica perché senza che noi abbiamo fatto niente di particolare nella formazione io le vedo già pronte quando si mettono in gioco ad insegnare ai loro equitani immigrati e subito prendono le parole colorate subito prendono i pass appunto subito prendono i mosaici si mettono di fronte con una disinvoltura con una capacità allora io le prendo queste ragazze e gli dico guardate voi quando sceglierete la facoltà dopo che vi avrete fatto il quinto scegliete quella veramente a voi più congeniale non pensate soltanto appunto come dici tu al posto di lavoro diciamo alla professione più redditizia io vi vedo che voi poteste diventare io dico a volte delle insegnanti diciamo quindi magari fate lettere se ritenete o scienze della formazione non lasciatevi dissuadere diciamo da chi vi dice che quelle saranno potrebbero essere delle lauree non redditizie quelle umanistiche perché se voi sentite invece una forza un fuoco dentro di voi lo dovrete riscaldare e quindi diciamo sì insomma uno deve anche provare dentro se stesso quello che deve fare ecco questo dico a questi ragazzi a queste a queste ragazze dico cercate di provare di fare delle esperienze formative e se vedete che funziona non esitate a percorrere la strada anche impervia che vi attende beh infatti a scuola allora un attimo che prima allora esiste una materia scolastica che lei inserirete in ogni percorso scolastico ma più che una materia io inserirei delle attività da svolgere come del resto un po' si sta facendo si sta cercando di fare no? cioè prima ancora una materia specifica delle attività formative legate a esperienze che possano portare i ragazzi anche al di fuori della classe no? quindi diciamo ma non solo in ambienti aziendali no? ma anche per esempio nel terzo settore come quello che noi facciamo in fondo no? allora lì tu vedi che i ragazzi magari che appunto come dicevamo prima in classe non rendono invece lì funzionano meglio quindi fare esperienze esperienze significa uscire dallo schema fisso io ti spiego e tu studi ma andiamo insieme in un ambiente diciamo diverso da quello consueto e vediamo di realizzare dei progetti da costruire insieme dove tu diventi protagonista tu studente ecco quella è la cosa che io incrementerei nella scuola di oggi un po' appunto sì anche la responsabilizzazione no? di la capacità di ascoltarsi perché in qualche modo appunto parlavamo di questa messa in cena come come studente aspettiamo sempre appunto le risposte dal professore anche le valutazioni appunto la conoscenza di noi passa attraverso quello che ci dicono gli altri invece sviluppare un rapporto con noi stessi perché in fondo questo mancato rapporto che abbiamo con noi stessi è alla base di tanti conflitti nel lavoro come nella vita personale se invece la scuola potesse diventare un luogo dove educare al sentire al sentire non solo l'altro ma anche al sentire se stessi sì questo mi pare fondamentale cioè insegnare la responsabilità non solo del mansionario cioè di quella cosa che tu devi fare e basta non quello no ma di tutta la realtà esterna ecco questo dovresti riuscire a fare come scuola no cioè ognuno di noi si dovrebbe sentire chiamato in causa appena appena vede l'oltraggio di un principio in cui crede cioè se tu vedi un'ingiustizia tu dovresti intervenire no oppure dovresti sentire l'insufficienza tua che non sei riuscito a intervenire e già quello sarebbe molto importante se tu sentissi questa che tu non hai fatto quello che avresti dovuto fare ecco questo è l'elemento più importante cioè se la scuola insegnasse una responsabilità proprio degli altri in questo senso profondo avrebbe fatto gran parte del suo lavoro perché se invece noi siamo soltanto legati al nostro mestiere no a quello che noi io ho fatto questa mansione e basta ora mi sento protetto no mi sento al sicuro no no invece ecco l'esposizione significa diciamo che tu crei un cittadino nuovo a quel punto uno che praticamente quando vede una stortura diciamo non passa indifferente ecco questo dovrebbe essere veramente il vero compito della scuola che è un po' quello che che forse tu chiami la la rivoluzione prepolitica cioè questo è sì la rivoluzione prepolitica perché non possiamo delegare soltanto ai politici diciamo tutto noi dobbiamo entrare anche noi diciamo in azione prima del precetto giuridico no perché altrimenti è troppo comodo diciamo semplicemente certamente il patto sociale è necessario il sistema giuridico è fondamentale però poi dobbiamo sentirci chiamati in causa come persone e questo ovviamente lo puoi fare soltanto a scuola è molto bello per me vedere in classe in aula oppure in una comunità quando vedo ragazzi che sono ancora nel momento formativo germinale quando non hanno ancora quella maschera dell'ipocrisia che purtroppo batureranno molti di loro fra 10-20 anni ecco in quel momento tu capisci che puoi davvero incidere nella loro vita ecco è lì che tu devi entrare in azione come educatore non puoi lasciarti sfuggire quell'occasione tra i 14-15-16 anni è lì che si fanno veramente tutti i giochi infatti io sono sempre stato appassionato di quell'età lì l'età dell'adolescenza perché è lì che davvero capisci che c'è ancora la luce negli occhi dei tuoi studenti dopo si spinge purtroppo perché poi ognuno di noi entra in quel meccanismo professionale professionistico e perde quell'occasione allora invece l'insegnante è sempre dentro in questo fuoco germinale è lì che insomma possiamo e dobbiamo intervenire quindi in qualche modo anche gli adulti che non sono insegnanti che non sono educatori per mantenere quella luce negli occhi dovrebbero veramente guardare forse di più ai giovani ai bambini anche per strada anche farli entrare veramente a pieno titolo nella propria vita non darli per scontati perché veramente da lì può ritornare quel legame con la vita perché lì ancora pulsa man mano crescendo un pochettino il ritmo si attutisce però noi i nostri volontari della Penny Wirth sono quasi tutti anziani diciamo perché abbiamo i giovani sono quelli dell'alternanza scuola lavoro poi abbiamo moltissimi anziani pensionati e io vedo che questi pensionati quando vengono da noi escono rinnovati escono contenti perché hanno visto diciamo negli occhi di questi immigrati ai quali hanno insegnato i pronomi personali faccio per dire hanno visto proprio questa luce di cui stiamo parlando e quindi a volte penso che noi siamo utili come Penny Wirth proprio anche quasi più ai nostri diciamo italiani che agli studenti immigrati proprio perché diamo forza diciamo alle motivazioni a volte sopite dei nostri dei nostri adulti sì vediamo se ci sono altre domande forse forse no abbiamo fatto un'ora e un quarto abbiamo fatto sì guarda allora mi faceva piacere leggere una una parte del del tuo libro nel quando parli proprio degli educatori uno perché veramente voglio condividere la tua la tua modalità di scrittura che è molto coinvolgente perché secondo me chi non ti ha ancora letto deve farlo in qualche modo mi sento di sponsorizzare questa cosa e qual è il brano hai scelto Emanuela? io ho scelto quello l'insegnante spezza il pane dell'istruzione perché in qualche modo forse ci sono tanti educatori o tanti futuri educatori ma voglio un po' pensare che tutti quanti siamo un po' educatori di noi stessi e di chi ci capita a fianco e quindi ti ringrazio per queste parole perché veramente sono concime per l'anima e voglio condividerli con chi c'è in ascolto allora l'insegnante spezza il pane dell'istruzione distribuisce le carte mentre lo fa tiene gli occhi fissi su chi le riceve assegna le parti non trattiene niente per sé è una ciotola senza fondo il marmo da divellare un fiore tra le pagine resta sempre in equilibrio fra domanda e risposta rischia tantissimo perché il suo come scrisse il priore di Barbiana è il mestiere dei fiaschi quando precipita si rimette in piedi e ricomincia punta in alto continua ad alzare l'asticella prima offre a tutti le maschere dei buoni e dei cattivi poi le stacca dal volto una per una disegna e cancella scolpisce e distrugge prova le voci evoca i fantasmi esplora il passato compone il futuro chiama raccolta guida e ascolta è presente è assente sta di fianco e di fronte all'allievo mostra le proprie fragilità non si vergogna di sbagliare sente che il terreno gli trema sotto i piedi eppure accetta la sfida è il maestro dei limiti lo stregone delle competenze il mago delle convenzioni l'esperto degli artifici lascia sbarrare la strada dal programma anima il grande gioco edifica la casa comune brucia le impalcature svela i trucchi indica le scorciatoie ma ti conduce sulla strada maestra conosce i simulatri della sapienza affida le sue parole al vento parla a nome del padre e soffre al posto suo è al servizio dei morti perché vuole bene ai vivi mentre ti affronta confessa se stesso abita un luogo verbale e tuttavia evita di pagare l'affitto come se le sue parole fossero strumentali vuole diventare il legittimo proprietario dell'esperienza da cui scaturisce ciò che dice in questo è uguale allo scrittore e solo i ragazzi lo sanno anche se non sarebbero in grado di esprimerlo regala a molti l'attenzione che ha ricevuto da pochi intercetta l'energia di alcuni e la orienta su altri quando spiega scopre gli ingranaggi trattiene le lacrime proclama la storia rifugia dal carisma ama le differenze accetta la controlla controversia certifica i valori esibiti ma va alla ricerca di quelli nascosti sin dall'inizio sa che in un modo o nell'altro è destinato a scomparire guarda grazie davvero grazie Eraldo veramente grazie per le tue parole e per la tua condivisione noi ci vediamo poi settimana prossima con l'ultimo appuntamento e vi aspettiamo numerosi e grazie ancora a tutti quanti per la vostra attenzione grazie a tutti buona serata ancora grazie Eraldo Salve grazie a tutti